Ringraziamo il Legend che ci ha ospitato, volevamo ringraziare il nostro tecnico del suono, Mauro Vergara. Un bel applauso. Il nostro tecnico e il tour manager, Jacopo Fapporti. E volevo ancora presentarvi, Mr. Alex Argento alle tastiere! Mr. Marco Sfogli, alla chitarra! Alla batteria, una leggenda, Mr. Virgil Donate! Passo in voce, Andrea Casali. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie. 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 Buonanotte.